Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo in un nuovo episodio della serie di Minecraft Signori, allora prima di partire dal video come al solito vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi genitori e per il supporto che date a serie al canale Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti signori entro la fine dell'anno E senza il vostro supporto noi non possiamo andare da nessuna parte Vi ricordo che io ce la sto mettendo tutta e da circa 107 episodi con questo compreso che stiamo andando avanti con questa serie Quindi vi chiedo il supporto per raggiungere l'obiettivo Basta semplicemente un clic sul pulsante del mi piace e anche un pulsantino dell'iscrizione e anche un commentino tecnico-tattico che fa sempre piacere Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi, signori, andiamo a creare la piattaforma per lanciarci con le litra Per fare il nostro primo volo dell'angelo, signori, il nostro volo della speranza Il volo del credo, il volo, chiamatelo come cazzarola volete chiamare voi Ma andremo a fare il volo Che non è il gruppo cantante ma è il volo con le litra, signori Dove lo andremo a fare? Il nostro bellissimo obelisco di bazar Mi è piaciuto chiamarlo così, signori, come da grande fan della serie Dragon Ball Non potevo che chiamarlo così Ovviamente faremo una... ora vi illustro, vi illustro Faremo una sorta di tunnelone, un tunnel enorme che salirà verso l'alto in maniera infinita Arrivata a una certa altezza in cui non vedremo niente sotto di noi Che non ci farà molto perché dico con i chunk bassi sarà molto, 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 molto facile da raggiungere questa situazione Faremo una sorta di piattaforma dalle quali faremo il primo lancio con le litra Ovviamente poi abbelliremo questa piattaforma Magari effettivamente costruiremo una sorta di obelisco di bazar per metterci che cosa? Non lo so, i conigli, signori Ci metteremo i conigli là sopra o anche le rane Non lo so, porteremo le rane là sopra senza un preciso motivo Non lo so cosa ci metteremo Bazar che animale era? Non me lo ricordo Ho un voto completo mentale Non ricordo bazar di Dragon Ball che animale era? Non lo ricordo, signori Insultatemi tranquillamente nei commenti perché non lo ricordo Allora, iniziamo con la costruzione di questa struttura che salirà verso l'alto Allora abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 Allora noi dobbiamo ricordarci che ci serve la parte centrale Perché comunque faremo il nostro bellissimo obelisco che sale verso l'alto Chiuso, signori, perché Successivamente dentro qua ci metteremo l'acqua così per essere più veloci a salire Quindi noi dobbiamo considerare che iniziamo a salire così Ok? Poi dobbiamo mettere un bloc... No, saliamo ancora di 1 Ok? Poi mi devi mettere un blocchettino di terra Perfetto Così In modo tale che io posso mettere un terzo pilastro di qua Ok? Saliremo così, vedi, signori Verso l'infinito e oltre Come direbbe il buon... Il buon... Buzz Lightyear Saliamo così, signori Verso l'infinito Verso quello che ci aspetta Non si sa Iniziamo a salire Io... Allora, diciamo che mi piacerebbe arrivare a un'altezza abbastanza alta Ok? Non so quanto è il limite di chunk Ma non penso che lo raggiungeremo Abbiamo finito questi altri due stack da 64 di legno E non ne ho più signori Dopodiché possiamo morire male Perché non sapere nemmeno come tornare qua su C'è questo grosso problema Una volta saliti non saprei come tornare qua su E quindi dobbiamo un attimino stare calmi e tranquilli Perché l'obiettivo è piazzare tutti questi blocchi Dopodiché l'obiettivo successivo è fare la piattaforma con legno scuro che ci siamo portati E diciamo che già siamo belli altucci, signori Già siamo belli alti Porca mi se mi stanno venendo le vertigini L'obelisco di bazar prende forma Poi ovviamente non so se nel video di domani O magari domani ci vediamo una pausa Ci inventiamo qualche altra cosa O anche magari nel video di domani Andremo a fare tutta la fonte d'acqua qua all'interno Che devo un attimino ricordarmi come cazzerosa si fa Per modo tale da salire velocemente Scendere non sarà un problema Scendere dovremmo avere sempre l'isa O penso che comunque dovremmo avere dell'acqua qua vicino Sì, potremmo anche lanciarci in maniera violenta Nel lago qui a fianco di noi E buttarci da là Dici ma ha senso questa struttura? No, signori, ma perché? Ha senso qualcosa nel nostro mondo? Non penso proprio Non penso proprio che qualcosa abbia senso nel nostro mondo Ma a noi ci piace così, signori Stiamo andando avanti da cento e passevisodi Costruendo cose a caso E la bellezza è proprio questa La cosa graziosa è che non so da quando è che non aggiorniamo la mappa del nostro mondo Perché comunque abbiamo fatto tante altre belle costruzioni E non siamo riusciti E non abbiamo più aggiornato la nostra mappa Allora, posso dire che mi girano un attimino le scatole, signori? Posso dire che mi girano le scatole Siamo abbastanza alti Ma speravo di salire ancora di più Speravo di salire ancora di più Il fatto è che se io Siamo alti Siamo alti Siamo decisamente alti Siamo più alti del Del magazzino Siamo decisamente alti Vediamo il nostro villaggio dall'alto Che non è male Non riusciamo a vedere l'imboccatura della Della miniera E questa è già tanta roba Però se fosse riuscito a salire anche di altri 20 blocchi Allora, io ho il legno nero Però mi farebbe un po' cagare Dover cambiare legno E che se scendo come risalgo io Bella domanda Se scendo come risalgo Va bene, signori Voglio spingermi ancora più su Vogliamo spingerci ancora più su? Sicuro? Siamo sicuri di questa nostra scelta Spingerci ancora più su? Ma che pro Tanto un'altra che ci lanciamo Siamo qui Ah, va bene così, signori Chi troppo vuole non la stringe Ricordatelo sempre Va bene così Penso che a caldezza siamo Tanto per avere un'idea tecnico-tattica Siamo a 125 blocchi Forse fino a 200 Forse ci possiamo arrivare Forse fino a 200 Ma più alto di così Ma non ha senso No, no Decisamente no No, no Basta signori Va bene Abbiamo deciso che ci fermiamo qui Abbiamo consumato quasi 3 stack Sì 3 stack Siamo belli alti Considerate che già siamo alti rispetto al nostro mondo Sì, basta così Basta così Allarghiamo la nostra piattaforma di lancio Quando faremo il lancio? Signori, lo facciamo in questo video Vi stupirò dicendovi che lo facciamo in questo video Il nostro primo lancio con l'elita Lo facciamo in questo primo video In questo video di oggi Allora, sono salito di 1, 2 e 3 lateralmente Quindi dobbiamo fare così 1, 2 e 3 Ok 1, 2, 3 e 4 Intanto facciamo così, signori E poi però non ho sbagliato Devo allargare questo ancora di 1 Volete vedere che mi mancherà pure il legno nero? Al che ridiamo? Se mi manca pure il legno nero Per completare questa struttura di qua 1, 2, 3 e 4 Ridiamo, signori Perché questo è un problema 1, 2, 3 e 4 Ok Qua ne mancava uno Ok Ne metto un altro di qua e un altro di qua E dovremmo esserci Ok 17 blocchi ce la dovrei fare Penso io Cazzarola no? Sì, a voglia Non ci resta tanto da fare Bisogna mettere 4 blocchi Per chiudere questa zona di qua Perfetto Così Ho fatto una stella verso l'alto Una stella verso l'alto Ok, signori Abbiamo la nostra piattaforma Abbiamo il nostro obelisco di bazar Molto 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 carino Molto decisamente molto carino Posso fare qualcosa di interessante? No, perché non ho più completamente legno Non ho più completamente legno Non ho più completamente legno Le pepite di ferro le ho posate Quindi neanche possiamo mettere le lanterne Ovviamente dovremmo andare anche a abbellire tutto questo, signori Mi piaceva mettere 4 lanterne, però Dobbiamo decidere se fare Tutta una struttura a chiudere Oppure come potremmo metterci Un tetto qua sopra E quella è una bella domanda Un tetto qua sopra è molto complicato da fare Non lo so Decisamente non lo so Però di sicuro Intanto mettiamo delle torce Che non si sa mai Lo spon di qualche mal mostro Mentre saliamo qua sopra Qualche mal creeper Che noi saliamo qua sopra E ci fa saltare male Intanto direi che così va bene, signori Che bello però Che bella vista Che c'è da qua sopra Guardate tutto il nostro mondo Bello bellissimo Occhio a casca perché siamo senza l'ITRA E l'ITRA se caschiamo da qua Moriamo male Dai, si vede tutto, signori Mi piace Questa torre di osservazione Mi piace, mi piace Si vede anche un pezzo di ferrovia Dai, che va da quel lato Ma detto questo, signori Questa torre o piattaforma di lancio Come volete chiamarla Chiamatela Ma siamo pronti, signori Rullo di tamburi Io ho una paura Perché l'ITRA Le ho sempre usate pochissimo, signori Puntiamo comunque il mare Puntiamo il mare Quindi io direi Ci lanciamo E poi vediamo Al mio tre, signori 3, 2, 1 Aspettate, come cazzo è la funzionalità? Cioè io salto Ok Quindi se io salto E se io salto E faccio così Si aprono Ok Devo fare un colpo di tatà Perfetto, sì Devo fare un doppio clic E si aprono Ok Decisi Rapido E' indolore Via Non si è aperto Sì, si sono aperte Madonna mia Che siamo caduti male, signori Siamo caduti malissimo Siamo caduti in picchiata Per i primi 60 blocchi Praticamente Siamo riusciti A rimanere Non so Va bene Catastrofe Disastro più totale Brutta figura terribile Ce lavoreremo, signori Ce lavoreremo Però il primo lancio è avvenuto Il primo lancio dell'Itra Me l'aspettavo molto meglio Però va bene Leviamone subito Prima che mi ammazzo male E questa è l'ultima cosa che vogliamo Tra l'altro va bene Andiamo a vedere un attimino Dal basso L'obelisco Che anche questo Andrà abbellito, signori Ovviamente ci metteremo Tutte le liane che scendono Tutte anche Anche le lanterne Che scendono con 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 Mamma mia Mamma mia Che piattaforma di lancio Potevamo farla ancora più alta? Forse sì Forse sì Potevamo farla ancora un pochino Altri Un altro stack Un altro stack ancora più alto Lo potevamo fare Sì Potremmo anche fare due piani Tipo signori Un primo piano lì E poi Un No No Sto farneticando troppo Ho detto questo signori Io vi ringrazio Vi ringrazio Vi ringrazio Per i commenti Presionati del supporto Piccolo aggiornamento Signori Sono nata le tartarughe Almeno una è nata E sta ferma lì Non capisco perché Sta ferma lì Sulla Sulla sabbia E non si muove Aspettiamo che nasca Anche l'altra E taglieremo Queste due Pezzi di sabbia Almeno si vedranno Di muovere Ste cazzarote De tartarughe Detto questo signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i commenti Presionati E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao